L'uso dello svettatoio è essenziale per lavorare sugli apici e sulle punte. Potature di alleggerimento e selezione in triclimbing richiedono sempre una buona manualità con questo strumento. Sono meglio mille tagli piccoli che un grosso taglio. Ma anche un taglio piccolo deve essere fatto bene. E saper usarlo svettatoio e posizionarsi bene è un'arte.